La sezione di Cremona di Gioventù Nazionale, il Movimento Giovanile di Fratelli d'Italia, ha organizzato nel pomeriggio di oggi un incontro con i quattro candidati al Consiglio regionale, Valentina Bagnolo, Federica Brizio, Stefano Foggetti e Marcello Ventura, l'occasione per un confronto con i candidati sulle tematiche care ai giovani cremonesi. Dobbiamo lavorare molto sul tema delle infrastrutture e dei trasporti, mi riferisco a un collegamento migliore con i grandi centri come Milano e Brescia, risolvere il problema del disagio giovanile con la pandemia sono aumentati i cosiddetti NIT, i giovani che non studiano e non lavorano e sono aumentate in modo preoccupante anche le dipendenze, quindi chiediamo un impegno ai nostri consiglieri regionali anche in questa direzione. Siamo agli ultimi cento metri di campagna elettorale, gli ultimi cinque giorni, fino adesso è andata abbastanza bene, ho trovato ottimi riscontri sul territorio, io amo andare in giro, lo faccio già di lavoro, ho ottimi rapporti con le persone. Questa settimana che manca sarà come quelle appena passate ma con un'accelerazione, quindi da lunedì a venerdì in giro ovunque per tutta la provincia incontrare persone, associazioni, categorie, imprenditori per raccogliere fino in fondo i bisogni e le esigenze del territorio. Grazie.